Quando ho cominciato i miei studi, era impensabile che una donna facesse medicina. Oggi sappiamo che anche i piccoli idioti possono imparare. Buongiorno signora, Maria Montessori. C'è per l'enfant. Voi prendete l'enfant come questo? C'è voi che vengono occupati? No. E' un'educazione piena d'amore. Quella che ci ha permesso oggi di portare qui questi bambini all'esame del corso preparatorio. È una peltina. È stato un grande successo, Maria. Ma quanto vale un successo se il prezzo da pagare è questo? Io voglio stare con mio figlio. Lo sai che non è possibile? Perderei la mia reputazione. No, tu sei un uomo, nessuno sarebbe. Dice, io? J'ai inventato una metoda? No. Sì? Raccontate una storia. Io voglio rivoluzionare l'escola. Tu stai un po' esagerando, Maria. Seguite bene il colore, eh? Io non posso continuare a farmi schiacciare dal tuo egoismo e dalla tua ambizione. Questa è la mia croce. Partire in guerra per conquistare i diritti del bambino. E guarda. Questa è la mia croce. Questa è la mia crocenza. È la mia croce. Grazie a tutti.